Signora McArthur, grazie di aver accettato il nostro invito e di essere quest'oggi qui con noi a Bologna. Mi permetta di iniziare con una domanda sulla sua esperienza in quest'ultimo decennio. È dal 2010 che la fondazione da lei istituita promuove una nuova visione dell'economia circolare. A suo avviso, cosa è cambiato nello scenario industriale e politico da allora? Che cosa ha contribuito in maniera più determinante a questi mutamenti? E quali elementi potrebbero svolgere un ruolo ancora più decisivo in futuro? Credo che dal punto di vista dell'economia circolare, la cosa più interessante a cui si è assistito negli ultimi sette anni sia la crescita di quest'idea, al di là dei confini tra i vari settori. Non è cresciuta soltanto nel settore del business, ma anche in quello delle politiche, in quello dell'educazione. Credo quindi che ciò che stiamo vedendo è una prima comprensione del fatto che l'economia globale avrà bisogno di un cambiamento sistemico e che tutte le aree dell'economia dovranno essere collegate in qualche modo e non più considerate come entità a sé stanti. Da moltissimi anni vediamo il design messo da una parte, il marketing da un'altra, il riciclo dei rifiuti da un'altra ancora, dove in un'economia circolare tutto subisce un'attrazione reciproca. Nella mia opinione questa comprensione è stata fondamentale non solo per la riuscita dell'idea, che rappresenta un approccio diverso al modo in cui funziona l'economia, ma anche per farne uno dei fattori principali che hanno innescato e accelerato questa riuscita. Il tutto accompagnato dalla comprensione che abbiamo moltissima strada davanti prima che la nostra economia globale possa essere definita circolare, essendo essa ancora prevalentemente lineare. Cos'è che rende questa transizione verso il circolare estremamente urgente e questo modello di business fattibile e allettante? Fin dal principio, quando abbiamo iniziato a capire nel dettaglio l'economia circolare, ci siamo focalizzati sull'analisi per capire la logica economica che sostiene l'economia circolare. Porta più benefici per l'economia globale rispetto a quella lineare? Crea più soldi per le imprese? Contribuisce all'occupazione locale? Ogni volta che abbiamo condotto uno studio sulla logica dell'economia circolare, questa si è mostrata positiva. Spostarsi verso un'economia più circolare genera più ricavi per le imprese ed è più equa per i fruitori dei prodotti. Quindi per noi questo è un fattore chiave per l'idea, di fronte al mondo delle imprese chiaramente, ma anche alla Commissione Europea e al World Economic Forum. Solo due settimane fa è stato introdotto un nuovo standard inglese, credo fosse l'8001, il quale misura la circolarità all'interno di un'azienda. E' quindi interessante vedere i progressi fatti dall'idea. Lei crede che l'Europa e l'Italia stiano facendo passi importanti in questa direzione? Vediamo progressi enormi non solo nell'economia circolare, ma anche nel modo di pensare. Il tutto non si riduce a una semplice transizione dal lineare al circolare, è la mentalità che deve cambiare per capire come possa essere effettuata questa transizione, che va da un capo all'altro delle industrie, dei materiali, della produzione, del consumo. Lo scenario viene spesso capovolto completamente, per offrire prodotti di servizio, per creare dei veri flussi di materiali. Quindi sì, i progressi sono stati importanti, spinti in parte dalle politiche e in parte dalle imprese, e dal fatto che sappiamo che il modello lineare, a lungo andare, non può funzionare e che dobbiamo trovare un'alternativa. Tutti questi fattori spingono ora verso la circolarità. E' un momento davvero stimolante. Sette anni di impegno senza sosta nel promuovere l'economia circolare nei vari settori. Che cosa rimane da fare? Qual è il prossimo traguardo per la vostra fondazione? Credo che l'obiettivo della nostra fondazione sia di accelerare la transizione all'economia circolare. Questa accelerazione è esponenziale ed è esattamente ciò a cui miriamo. Abbiamo sempre cercato di scegliere quelle aree in cui l'effetto è più vistosamente positivo, fra cui l'analisi dell'economia circolare, lavorare con le imprese, i comuni e le regioni, o ancora l'educazione. Lavoriamo anche su iniziative sistemiche in cui realmente cerchiamo di spostare fisicamente il flusso globale di materiali. E' con questi settori che abbiamo cominciato con la fondazione. Ed è lì che continueremo ad operare per individuare i progetti che hanno l'impatto maggiore. Ok. La ringrazio molto. Grazie a lei.